La gara fondamentale per noi ma anche per loro Grazie alle vittorie perché l'unica cosa che ci può aiutare è solo vincere Poi il resto si guarderà alla fine gli altri risultati, noi pensiamo noi stessi Dopo la bella vittoria col Prato a Salerno è mancato veramente poco Per portare via un risultato e un punto che sarebbe stato meritato Sì, adesso non bisogna pensare al passato, a quello che è successo Perché se andiamo a vedere anche partite indietro abbiamo perso dei punti Perciò dobbiamo solo che lavorare e nulla, continuare su questa strada